Amici del software libero e open source, benvenuti o bentornati in questa 173esima puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie del mondo del software libero e open source dell'ultima settimana appena trascorsa. Anche questa, come potete vedere, è una puntata video e se mi seguite su YouTube già state vedendo che c'è una piccola novità per quanto riguarda il mio setup perché come potete vedere ho abbandonato momentaneamente, per prendere una piccola pausa, ho abbandonato KDE Plasma. Perché ho abbandonato KDE Plasma? Semplicemente perché negli scorsi giorni ho avuto problemi grossi nella registrazione della puntata del podcast perché OBS mi andava a dare problemi con i driver Nvidia e con la sessione Wayland. Ho iniziato a imprecare nei confronti di KDE Neon pensando fosse un problema di KDE Neon, poi ho iniziato a capire che non era un problema di KDE Neon ho iniziato a interrogarmi sul fatto che fosse un problema della versione di OBS che avevo installato nel repository invece ho visto che il problema persisteva anche sulla sessione Wayland e che cosa ho fatto? ho preso dal momento di sconforto e rancore ho deciso di piegare tutto, ho iniziato a fare un po' di distro hopping così come lo facevo ormai da quasi un anno a questa parte ho iniziato a installare distribuzione una pressa all'altra, ho installato Endeavor nella versione con KDE ho installato successivamente PopOS, ho installato Fedora ho installato poi alla fine nuovamente Endeavor OS come desktop environment, questa volta però Cinnamon perché ho installato Cinnamon? Perché alla fine è quell'ambiente desktop che mi consente di stare il più lontano possibile da Wayland in questo momento e quindi più o meno mi consente di far funzionare OBS con Nvidia senza problemi di sorta anche se, poi vi spiegherò magari in un video approfondimento, anche qui ho dovuto fare alcune piccole modifiche al setup di OBS perché a quanto pare l'ultima versione, qualche problemino c'era un po' con le schede Nvidia ma vabbè, non so fino a quanto tempo durerà questa installazione di Endeavor OS con Cinnamon perché ogni volta che io provo Cinnamon, e ve lo dico, trascorsi le prime ore di ma da quanto è figo, tutto si apre velocemente, ma da quanto è figo, non devo installare niente per avere le icone nella try ma da quanto è figo, c'è un ambiente che è confortevole poi alla fine mi scontro sempre con il fatto che l'ambiente desktop è buttarelo diciamoci, non ci sono temi per Cinnamon che vi fanno dire wow, è tutto bello, tutto moderno purtroppo Cinnamon è rimasto molto indietro sia a livello di Cinnamon che a livello di tema GTK per quanto riguarda le applicazioni, ma anche per i temi di icone perché non riesco a trovarne uno che si sposa bene con Cinnamon ma alla fine ho messo questo setup un po' ibrido che ho installato le icone di PopOS ho lasciato il tema, come si chiama, quello di default di Linux Mint e più o meno, diciamo così, me lo sto cercando di far piacere come vi dicevo, non so fino a quanto durerà questo setup fino a quanto durerà anche questa installazione perché molto probabilmente cercherò di approdare 3D molto probabilmente installierò PopOS perché? Perché vorrei poter seguire un po' lo sviluppo del nuovo desktop environment di PopOS Cosmic qual è la miglior distribuzione per poter smanettarci e provarlo sapete bene che, anzi, ve lo dirò in questa puntata ci sono stati un po' di rallentamenti, intoppi sulla tabella di marcia e il nuovo desktop environment di PopOS arriverà un po' più avanti nel tempo ma ne parleremo più avanti in questa puntata ma apriamo la puntata con la prima notizia la prima notizia riguarda il rilascio di KDLive 24.02 questa è la nuova versione di KDLive che getta le basi per il prossimo decennio diciamocelo così, di KDLive perché questa versione segna uno spartiacque perché c'è l'adozione delle QTC e dei KDE Framework KDLive è più veloce, più elegante e funziona, funziona meglio sia su Windows che su MacOS che su Linux andatevi a leggere tutto quanto l'articolo che ho postato sulle pagine di Marcosbox dove ci sono tutte quante le novità di questa nuova versione io sono un utilizzatore saltuario di KDLive diciamo così, perché alla fine al massimo faccio qualche conversione metto giusto qualche effettino qua e là quando capita o qualche testo in sovrapposizione perché di solito, anzi, avete visto butto le puntate sia nel podcast che i video che realizzo per il canale YouTube li butto così senza starci a editare però vedo che è moltissimo apprezzato da molti di voi che lo utilizzano sia su Windows che su Linux ovviamente ma passiamo adesso a una notizia un po' sciocca perché è un problema che molti di voi di sicuro avranno già affrontato è risolto ormai da tempo però il sottoscritto aveva questo problema si è d'accordo di questo problema dopo l'aggiornamento a KD Plasma 6 e l'utilizzo della sessione Wayland mi sono accorto che non andava la sospensione su disco ecco, come si fa a risolvere questo problema? ho postato una piccola guida semplice semplice che vi spiega come poter risolvere il problema della sospensione su disco che non funziona se siete su Wayland con il driver Nvidia e nella fattispecie se vi trovate, come nel caso mio, su KD Plasma vabbè, questa è una soluzione che funziona indipendentemente dal desktop environment ovviamente la soluzione l'ho trovata su Wiki di Arch Linux perché se avete un problema sappiate che questa cosa qui imparatevi di questa cosa se siete utenti, novizi del mondo Linux il 99% dei problemi ha una soluzione all'interno del Wiki di Arch Linux quindi cercate troverete di sicuro la soluzione al problema che fa il caso vostro che vi consente poi di risolvere i vostri guai informatici con il pinguino cambiamo decisamente argomento e passiamo a parlare di una notizia riguardante la Commissione Europea l'utilizzo da parte della Commissione Europea di Microsoft 365 viola la legge sulla protezione dei dati per l'istituzione e gli organismi dell'Unione Europea questa sentenza, diciamo così arriva direttamente da un'indagine che è stata svolta dal Garante Europeo per la protezione dei dati che ha riscontrato che la Commissione Europea ha violato diverse norme fondamentali in materia di protezione dei dati utilizzando Microsoft 365 ci sono, sulle pagine del Marcosbox trovate l'articolo completo nella fattispecie quali regolamenti sono stati violati e quali sono anche le soluzioni che il Garante Europeo per la protezione dei dati ha suggerito alla Commissione Europea per andare a risolvere il problema il problema dell'utilizzo dei dati sulle piattaforme di cloud è un problema molto stringente è molto attuale perché l'Unione Europea con le ultime norme in materia di protezione dei dati sta cercando di mettere un freno a tutti questi servizi di cloud che vanno a processare i dati all'esterno dei territori dell'Unione Europea perché ci sono problemi di privacy ci sono problemi anche per quanto riguarda l'accesso ai dati sapete bene che tutti quanti i dati che passano sui server esteri degli Stati Uniti sono soggetti alla registrazione degli Stati Uniti quindi di conseguenza non è proprio il massimo per far transitare dati pubblici cioè dati sensibili europei e questo fa specie che questa volta il Garante per la protezione dei dati il Garante Europeo è andato a bacchettare proprio la Commissione Europea che utilizzava soluzioni di Microsoft 365 per poter gestire documenti e cloud e quant'altro chissà, chissà, chissà quando capiranno quando si inizierà ad adottare su larga scala mille misure diciamo così migliori dal punto di vista della privacy utilizzando soluzioni uscite ad hoc con mi fa venire da pensare con soluzioni come Nextcloud istanze europee per quanto riguarda la gestione di questi dati leggendo poi su internet mi sono fatto una piccola cultura al riguardo vedo che ci sono nazioni come la Germania che sta prendendo seriamente in considerazione anzi sta prendendo seriamente in non in considerazione sta affrontando seriamente il problema perché moltissime istituzioni tedesche ma anche università e quant'altro cercano di ragionare in ottica dato mio deve risiedere per forza nel territorio nel perimetro europeo dei dati e quindi utilizzano principalmente anzi esclusivamente in alcuni casi soluzioni istanze private di Nextcloud come soluzioni per il cloud e sarebbe opportuno che in Europa prendessimo seriamente in considerazione questa soluzione e anche in Italia prendessimo in considerazione questa soluzione perché sapete bene che in Italia noi tra i vari accordi fatti negli anni prima con Google poi con con Microsoft non ce la passiamo tanto bene per quanto riguarda il trattamento dei dati che viene buttato a destra vediamo come si comporterà la commissione europea e come si comporteranno le istituzioni europee in generale dopo questa dopo questa sentenza e cambiamo nuovamente argomento e parliamo adesso di Cosmic il desktop environment scritto in Rust che gli sviluppatori di System76 stanno realizzando per PopOS e per tutte quante le distribuzioni che vorranno adottarlo la prima novità riguarda una notizia che è stata data sul profilo Mastodon dello sviluppatore principale di Cosmic riguardante un nuovo application store che stanno sviluppando i ragazzi di PopOS stanno sviluppando per Cosmic Day potete vederlo dagli screenshot se mi seguite qui sul canale YouTube è diciamo così molto minimale però si adatta perfettamente allo stile del nuovo desktop environment che stanno sviluppando il nuovo software si chiamerà Cosmic App Store e secondo gli sviluppatori promette prestazioni straordinarie perché Cosmic Store si carica quasi istintaneamente perché praticamente viene gestito tutto tramite un nuovo bitcode per memorizzare nella case i dati dell'appstream in un formato ottimizzato e utilizza poi anche pochissima memoria rispetto a Poposhop Poposhop non è mai stato un campione di velocità e di leggerezza e ci tengono a specificare anche un'altra cosa che le ricerche possono essere eseguite in tempo reale perché vengono eseguite in parere quindi questo lo velocizza in una maniera assurda abbiamo bisogno di un'applicazione e decidiamo e subito ci viene proposta e speriamo di poterci mettere subito a me nel più breve tempo possibile le mani su perché dico nel più breve tempo possibile perché ci sono alcune novità sempre riguardanti i Cosmic Day che faranno storciare il naso a molti di voi che stanno diciamo così hanno hanno fatto perché alla fine l'hanno fatto l'hanno fatto slittare il rilascio della versione stabile di Pop OS con Cosmic Day perché gli sviluppatori hanno deciso di rilasciare due versioni Alpha di Cosmic Day e la prima versione Alpha di Cosmic Day che dovrà essere rilasciata nel primo trimestre di quest'anno arriverà un po' più in là arriverà a fine maggio invece quindi ci tocca aspettare ancora diverso tempo per poter metterci le mani su e il rilascio completo ci hanno fatto sapere anche gli sviluppatori il rilascio completo di Cosmic Day è entro la fine dell'anno quindi fine 2024 e questa nuova versione di Pop OS si chiamerà Pop OS 24.04 sarà basata su Ubuntu 24.04 e utilizzerà questa prima versione di Cosmic Day beh che dire mi dispiace non poter vedere subito questa nazione Cosmic Day io ci tenevo ero molto curioso di metterci su le mani in questi mesi in questa prima parte del gando però c'è questo piccolo ritardo di altri due mesi per vedere la prima alfa quindi poi ci sarà la seconda alfa poi ci sarà la beta quindi se ne parlerà visto e considerando i tempi a mio avviso si considera che immagino che verso ottobre novembre dovrebbe uscire questa nuova versione di Pop OS con Cosmic quindi ci sono diversi mesi che ci separano dal rilascio peccato vabbè comunque il team di Cosmic ha poi realizzato il suo consueto recap mensile sullo sviluppo di Cosmic Day ci fa sapere che cosa hanno combinato hanno completato la parte riguardante la gestione della grafica ibrida quindi se avete che so se state supportati con una scheda video integrata più una scheda video dedicata ci sono ancora potenziali miglioramenti delle prestazioni in arrivo ma quel che è stato fatto già molto promettente hanno implementato hanno meglio stanno continuando a implementare il tiling con l'applet dedicata e sapete benissimo che una delle feature più importanti del Cosmic Day ma in generale di Pop OS è quella di avere una gestione spinta del tiling delle finestre e questo nuovo desktop environment avrà proprio una funzione dedicata ci sono poi miglioramenti delle impostazioni dei dispositivi di input hanno finito quasi di sviluppare il terminale di Cosmic e anche l'editor di testo di Cosmic quel che ancora non è stato implementato e mi meraviglia che a questo punto dello sviluppo ancora non l'abbiano fatto forse ritengono che alla fine bassi davvero poco per poterlo fare non è ancora stato implementato Cosmic Files hanno finito la fase riguardante la definizione del design di Cosmic Files quindi il file manager di Cosmic però ancora non abbiamo non abbiamo non ci possiamo metterci su le mani però hanno mostrato alcuni alcune finestre ci fanno vedere ad esempio l'attuale implementazione della vista griglia l'implementazione della visual ad elenco e il file manager dagli screenshot che hanno postato da un design abbastanza anonimo speriamo che le prestazioni che quelle poi alla fine importanti di un file manager siano elevate perché sto vedendo che anche il gnome sta puntando molto sul miglioramento delle prestazioni imminente gnome 46 che arriverà fra qualche giorno ha puntato molto nel file manager nel velocizzarlo e speriamo che anche il team di Cosmic decida di avere un occhio di riguardo per quanto riguarda le prestazioni del file manager e poi è stata migliorata la leggibilità della modalità chiara qui potete vedere un esempio che vi fa vedere a sinistra il vecchio stile e a destra quello nuovo aspettiamo 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 ci tocca aspettare voi siete curiosi di metterci le mani su su Cosmic io sono molto curioso di metterci le mani su Cosmic non vedo non vedo l'ora e vabbè passiamo adesso ad un altro argomento e parliamo adesso di un articolo postato da BlackCodec riguardante una sua recensione di Linux Lite con XFSE Linux Lite è una derivata di Ubuntu che utilizza XFSE ha in comune con Ubuntu non soltanto il parco soft non soltanto quando il repository di base ma anche la presenza di Snap purtroppo quindi anche questa versione questa distribuzione decide di non andare a manomettere il setup predefinito togliendo Snap ma lo propina agli utenti sapete bene che Snap si porta dietro alcune criticità riguardo alla velocità e quant'altro quindi peccato che non abbiano deciso di purgare Snap dalla distribuzione visto che è considerato che Linux Lite è una versione di Linux pensata per essere leggera quindi mi fa strano che lasciano Snap comunque andatevi a leggere il suo articolo la sua recensione ci sono diversi screenshot quindi potete vedere un po' come l'ambiente desktop quali sono i programmi che ci sono preinstallati quali sono i tool per l'installazione di software che troviamo sulla distribuzione e ci sono poi le sue conclusioni e fate soprattutto vi ricordo lasciate un commento infine come ultima notizia di questa puntata una notizia che non riguarda il mondo del software libero strettamente ma riguarda l'arrivo di un'applicazione un client per la gestione di ProtonMail ProtonMail è un servizio di posta elettronica sviluppato da Proton che è una società tecnologica nata in Svizzera nel 2014 da un team di scienziati che si sono incontrati al CERN di Ginevra che è specializzata in questa società nel offire servizi online incentrati sulla privacy io utilizzo la versione base del client di posta di ProtonMail quindi mi interfaccio principalmente con l'interfaccia web perché di fatto non c'era fino adesso un'applicazione desktop purtroppo però questa applicazione desktop di ProtonMail è destinata soltanto agli utenti quelli paganti perché se avete la versione gratis la versione gratuita di ProtonMail quella che vi offre spazio fino a 5 giga e non vi offre così tanto funzionalità aggiuntive dicevo voi non potete utilizzare io non posso utilizzare questo client di posta per poter utilizzare questo client di posta che appena stato rilasciato dovrete avere uno dei vari pacchetti quelli a pagamento di ProtonMail perché vi parlo comunque di questa applicazione di ProtonMail perché questa applicazione è compatibile con Windows è compatibile con Mac OS e compatibile anche con Linux quindi il team di ProtonMail ha deciso subito di dare raccogliere consensi da parte di quanti degli utenti segna che molto probabilmente che la maggior parte degli utenti cioè che molti utenti diciamo così di ProtonMail sono utenti che provengono dal mondo Linux perché noi utenti Linux abbiamo di solito una 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 volontà maggiore di stare attenti alla privacy quando navighiamo quando gestiamo la post quando gestiamo i nostri dati sul web evidentemente il team di Proton lo sa e analizzarlo dalle statistiche che ha visto che era giusto che era cosa buona e giusta rivolgersi anche a noi pinguini la versione del client desktop di ProtonMail per Linux viene rilasciata sotto pacchetto deb e sotto pacchetto rpm quindi per diciamo così soddisfare le esigenze del lato Debian e del lato Fedora fatemi sapere voi se utilizzate il servizio di ProtonMail o soprattutto se utilizzate la versione Pro sto conducendo una piccola indagine ultimamente tra i miei lettori perché ci sono alcuni che mi hanno risposto sui vari social che utilizzano ProtonMail nella versione Pro sia come casella personale e in alcuni come casella lavorativa perché sto conducendo questa indagine semplicemente perché sono curioso di poter vedere se è possibile anche per me abbandonare tutti quanti i servizi quelli di Google e dedicarmi soltanto a servizi più incentrati sulla privacy e la sicurezza quindi anche cambiare la mia posta elettronica principale passare in via definitiva Proton come casella di posta principale anche i servizi di cloud unificare il tutto perché vi dico sempre questa cosa perché ProtonMail nelle varie versioni in abbondamento del suo servizio di posta elettronica che include anche uno storage online quindi può essere utilizzato anche per sostituire servizi come Dropbox OneDrive Google Drive e quant'altro quindi potrebbe essere una soluzione utile perché offre un pacchetto completo non è soltanto posta elettronica e il pensiero ve lo dico come dicevo se lo faccio sempre di poter abbandonare sogno di poter abbandonare di potermi slegare dai servizi Google e dedicarmi soltanto a servizi cuciti più rispettosi della privacy e quant'altro penso che sia il sogno di tutti quanti voi pinguini all'ascolto vabbè e con questa ultima notizia si conclude qui questa 173 puntata del podcast di Marcosbox io come sempre vi invito a seguirmi sui vari social mi trovate su Facebook su X su Youtube mi trovate sui principali piattaforme di podcasting mi trovate su LinkedIn con il mio profilo personale mi trovate su Mastodon con il mio profilo personale mi trovate anche su Castopod dove potete seguire il podcast su questa piattaforma alternativa mi trovate poi su Telegram dove c'è un canale principale dedicato alle notizie di Marcosbox c'è una community di Telegram alla quale vi invito a iscrivervi numerosi perché non si parla soltanto di links ma si parla anche di altri argomenti e abbiamo poi un canale Telegram dedicato alle offerte Amazon con i link referral che potete utilizzare per supportare il blog acquistando uno dei prodotti Amazon che trovate linkato nel canale Telegram delle offerte se volete e se siete più smanettoni potete anche aggiungere il referral Marcosbox trattino 21 direttamente al Google su Amazon se non sapete come fare c'è i tux che ci cliccate da sopra e vi rimanda al referral infine vi ricordo che potete supportare il blog anche acquistando e rinnovando la vostra VPN e nella fattispecie acquistando e rinnovando NordVPN e con questo si conclude qui la puntata lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox chi sia su quale distro ciao ciao